L'impennata dei prezzi indebolisce la ripresa anche in campagna, non solo per le imprese, ma anche sui comuni e i enti pesa il caro Bollette. A Napoli l'aumento della spesa per illuminazione pubblica salirà di altri 2 milioni di euro all'anno. Anche il capoluogo partenopeo ha dunque aderito alla campagna di protesta promossa da Lanci, con 3.000 comuni d'Italia che hanno spento le luci e lasciato per 30 minuti piazze, ponti e monumenti al buio. A Napoli è stato scelto il maschio angioino. Il tema del caro Bollette colpisce le famiglie in primo luogo, però anche le amministrazioni sono in difficoltà. Noi già abbiamo dovuto fare un intervento per il costo dell'energia elettrica per il 2021, per l'anno scorso, che è stato superiore nettamente a quello che era preventivato. Saremo costretti a farlo per il 2022 in maniera molto significativa. Chiaro che sono oneri molto grandi che per un comune in difficoltà economica come il nostro, per quello che abbiamo ereditato, è un sacrificio molto importante che significa sottrarre risorse ad altre attività essenziali. Quindi noi come Anci facciamo affidamento su un intervento del governo che ci possa aiutare e possa ristorare almeno in parte questi oneri maggiori che altrimenti ricadrebbero sui cittadini. Intanto fanno ancora discutere i commenti del sindaco di Milano e del governatore della Lombardia sulla spesa dei fondi del PNRR. La polemica nasce da un fuorionda tra Sala e Fontana in cui si avverte malumore per la distribuzione delle risorse al sud. A stretto giro arriva la pungente risposta della ministra per il mezzogiorno. Caro Beppe Sala, il PNRR al sud, 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 è un'opportunità anche per il nord, ha detto Mara Carfagna.